Uno dei perni dell'insegnamento Cerchio medianico K attraverso Marco a cura di VB Caio Mario Vittorino Quando si parla di gioia in genere la si crede parola facente parte del vocabolario delle cose quotidiane, delle cose naturali, normali per voi. Ma gioia è un'espressione mistica, non è un'espressione materiale inerente a soddisfazione di propri appagamenti. In questo senso gioia o per meglio dire letizia è un sentimento del creatore da non confondere con senso del creatore. Senso del creatore è percezione dell'esistenza divina. Ma percezione dell'esistenza divina non è necessariamente sentire l'esistenza di Dio. In realtà questo è uno dei perni dell'insegnamento su cui bisognerà tornare. Ma è importante sapere la differenza tra sentimento dell'esistenza del creatore e senso dell'esistenza del creatore. Senso dell'esistenza appunto è la base, il fondamento del misticismo. Ma il vero misticismo, quello che può trascendere l'Io, quello che può sublimare lo spirito fino a condurlo alle più alte vette, quello che veramente può evolvere la coscienza fino ai più alti gradi, quello che veramente può far sentire di essere parte di un tutto uno assoluto e indivisibile, quello è il sentimento dell'esistenza del creatore. Sentire che egli vive e opera in noi come in tutte le cose esistenti, che esisteranno e che sono esistite e non in lui. Grazie a tutti.